Un americano, un americano, un americano Un americano, un americano, un americano Un americano, un americano Un americano, 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 un americano, un americano Chi si vuole fare la mossa stasera? C'è una concorrenza di muranne, le così molle è brilla. Ancora che il lindo giungere la Ricordiamo dal primo aprile Riapre la taverna Anna Meccora per la lunga estate 2019 A Pasqua aperti dal venerdì A Pasqua siamo già aperti dal venerdì Però come ti dicevo già il primo sabato di aprile Già siamo operativi Salutiamo il patron Guido Lembo Che è lei che ci sta guardando Caro Guido Siamo qui Tuo figlio sta qui da Rosolino E poi in giro in tutta Italia Ci vediamo in giro una di queste serate Oppure a Capri mi raccomando Noi con papà ogni intervista la terminavamo così Taverna numero uno al mondo Si trova a Capri Vabbè è esagerato però tutto a posto Ci vediamo a Capri Grazie 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 a tutti.